Questo regalo che ha voluto fare a Melina con un cameo? Il regalo l'abbiamo fatto mio fratello Dio, piccolissimo regalo a Demetrio Casile che conosciamo da tantissimi anni, da quando vince il premio Solinas con la sceneggiatura dei ragazzi Calabria e poi essendo mio concittadino, perché lui insegna e vive a Bologna, ho seguito in qualche modo quello che è stato un suo percorso professionale irto di insidie, più di salite che di discese e di pianura e quindi nel momento in cui gli è stata offerta l'opportunità di... tra l'altro siamo venuti qua, mi sembra un paio di anni fa, a perorare la causa perché gli fosse data l'opportunità di realizzare un altro film, cosa che poi adesso finalmente si è concretizzata e quindi la vicinanza almeno affettiva è totale nei riguardi di chi, contrariamente a noi, noi abbiamo fatto tanti film, lui così pochi e con così tanta fatica quindi andava in qualche modo appremiato, insomma, considerato. Demetrio diceva prima che lei ancora il film non l'ha visto, quindi diciamo dare un... L'importanza, io credo che il film sia... la qualità del film sarà sicuramente più che soddisfacente ma l'importanza, la cosa importante è che ci sia la decisione delle persone che ancora sognano il cinema, dedicano tutti i loro sforzi, fanno dei sacrifici immensi come quello che ha fatto Demetrio fra Roma, Bologna, insomma, per poi riuscire a portare a caso un risultato che in qualche modo poi, credo, sia un manifesto d'amore nei guardi di questa collettività, di questa gente, di questa terra. Grazie. Grazie. Grazie.